riprendo da dove ho lasciato nella lezione precedente volevo fare una lezione unica poi ho pensato che fosse meglio suddividere la prima parte introduttiva da questa seconda parte in cui invece leggeremo comprenderemo le opere le opere scritte da ungaretti allora la prima poesia che voglio leggervi è veglia tratta dalla raccolta il porto sepolto sono 33 poesie della prima raccolta di ungaretti stampate nel 1916 in soli 80 esemplari alla fine di ciascuna lirica è lo stesso ungaretti soldato poeta soldato a indicarne il luogo e il momento della composizione ok quindi sono le quelle poesie di trincea di cui vi parlavo veglia un'intera nottata buttato vicino a un compagno massacrato con la sua bocca digrignata volta al plenilunio con la congestione delle sue mani perpetrata nel mio silenzio ho scritto lettere piene d'amore non sono mai stato tanto attaccato alla vita ecco una poesia simbolica simbolica perché racconta come se fosse in presa diretta la guerra nella sua tragica e assurda disumanità quindi attraverso l'immagine di questo corpo di soldato suo compagno commilitone massacrato morto ma non morto in modo eroico in modo diciamo rispettoso del suo essere uomo ma sventrato morto senza dignità quindi con la bocca digrignata quindi addolorato volta al plenilunio quindi probabilmente a sollevare l'ultimo l'ultimo desiderio l'ultimo pensiero forse ai suoi cari e che ha appunto un aspetto ormai sfatto perché le mani sono diventate viola ed è tutto avvolto nel silenzio in quel momento con quella scena ma soprattutto con quella compagnia di un cadavere accanto col quale fino a qualche minuto prima si era magari riso o scherzato o condiviso il momento e l'esperienza ebbene in quel momento il poeta sente il bisogno di scrivere di annotare questo impeto emotivo di verbalizzare un dolore che potrebbe essere troppo forte perché possa farlo sopravvivere quindi piuttosto che morire di dolore il poeta sceglie la via salvifica dello scrivere e il messaggio che rivolge a se stesso come un mantra e anche a noi che lo leggiamo e che la vita è bella e che bisogna amarla apprezzarla che bisogna essere attaccati alla vita perché ci sono delle fatalità delle contingenze dei momenti di dramma in cui la vita si può perdere e quindi egli si rende conto che c'è ancora l'umanità nel suo essere che lo fa ragionare che lo fa sentire che lo fa scegliere di continuare a vivere anche in una condizione oggettivamente invivibile oggettivamente in cui si desidererebbe una morte rapida che ha un che una lenta agonia che il terrore continuo e costante del bombardamento del rischio della morte a breve quindi vedete senza parole senza spiegare senza precisare noi lettori riusciamo a cogliere tantissimi significati in questa poesia e riusciamo soprattutto a leggere un monito che è quello che scrivere che interrogarsi che mettersi in ascolto di se stessi è la via probabilmente per salvarsi. Veglia è scritta con la tecnica consueta di Ungaretti volta alla ricerca della parola scarnificata essenziale pura o assoluta immune cioè dalle incrostazioni del linguaggio convenzionale Ungaretti stesso spiegò la ragione di tale ricerca stando tra i morti egli scrisse non c'era tempo bisognava dire delle parole decise assolute ecco allora questa necessità di esprimersi con poche parole di liberarsi ripulirsi della retorica e di non dire che quello che era necessario. La parola quindi indica la ragione della veglia notturna del poeta il plenilunio verso cui è rivolta la bocca del compagno massacrato è il simbolo della dolcezza della bellezza della vita dell'ancora di salvataggio che sono gli affetti le persone che sono nella nostra memoria in qualsiasi istante della vita e soprattutto nell'ultimo istante della vita